P-piggiare? Piggiano la scuola? Piggiano la scuola! Beh, è il termine italiano! Piggiano! No, noi non si può dire come si dice! Piggiano! No, piggia! Piggiano! No, senza il gesto! Piggiano! Piggiano! No, senza il gesto! Bene, si sono accoppiati alla lucia della luce ed è nato un nano che sta diventando sempre più grande a ogni passo. Tutto sembri tranne che un bimbo ha la barba, anzi i baffetti qua. Perché detesta Pagetà? Ma... La super forza di Pagetà! Pagetà lo tocca? Ma perché? Ma perché? Non ha il minimo senso sta roba, vabbè. Voce di pioggia su di noi? Quante ne sono cadute oggi, Dicoce, sulle nostre teste e su quelle dei tifosi? E se continua così, ne cadranno ancora di più su quelle dei giocatori questo pomeriggio. Speriamo che questo non pregiudichi lo spettacolo. Eh, ma l'intro cantata è tipo la quintessenza della bruttezza cosmica. Portarci sua! Ma dove l'ho messa? Eh, tu ti attocchi a iermento che porta fortuna. Un po' come... Un po' come vabbè, lasciamo perdere, se no pare brutto. Ma se siamo in tre, che succede? Giochiamo in tre. Bene! Ma che cazzo no la fai? Ma... Preso pieno! Mamma mia! Che goduria! Che goduria! Il cecchino che graffia da lontano! T'ho visto, maledetto! T'ho visto! T'ho visto! Non hai speranze! Ok. Non si sa bene con cosa stia tenendo... Così è abbastanza... Scusate! Non l'ho resistito! Ti metto giù! Con molta calma! Ma non lo volevo schia... Niente! La gestione dei nugget mi è un po' sfuggita di mano! Capitan tira su! Io... Io... Oh, che brutta piega che sto prendendo sto video! Non la devo fare la battuta! Non la devo fare! Non la devo fare! Non è bello fatto da un uomo questo... Questa cosa? Sembra che stiamo facendo la fine di quelli che stavano su Twitch quando l'hanno sgamati e che siano scordati la camera cesa durante le dirette e li hanno beccati con le mani nel sacco o meglio, con le mani nel pacco La, 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 la La, 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 la Dovete entrare? Bella la signora! Mamma mia che... Ma come mi... Ma... Ma siamo sicuri che sia tutto in ordine in questo luogo? C'è uno sguardo un po' ambiguo tutti quanti! Mamma mia che ansia me... Ma perché la signora poi non ha le schiarpe e gira con i collan? Vabbè Non facciamoci domande di cui potremmo temere le risposte Scusi, lei... Mamma mia! Non ha le mani sul volante! C'è che... Vabbè Bene Il destino ci ha... Ci ha favoriti In chioda, in chioda Ah! È quello della macchina! È quello... Che cosa è successo? Mamma mia signora! Che cosa... Dove vanno? Prego! Mamma mia quant'è angosciante sto tipo! Ehm... Vabbè Ma che bella camminata! Vabbè Ehm... Che... La signora è svenu... Signora? No, eh Io comunque ho detto in questa... Vabbè Ehm... Andiamo! Vabbè Allora Ehm... Dunque Che salto mascolino Allora Sì! No! Dove? Non era previsto Che io cadessi Temo Ho appena rotto il gioco Che bello C'è una scarpa? No! Non è una scarpa! Vieni qua! Bella culona! Abbona! Perché stai nuotando? Sei riuscita a baggare anche questo? Come fai a baggare ogni cosa che tocchi? Ma che... Ma io ho sparato venora! Che cos'ho le mani che non va? Che cos'ho? Perché ballo la drag dance? Sei stacca che addosso? Aspetta, aspetta! Me scappa, me scappa! Me scappa, me scappa! Non me vendi! Non me vendi! I'm fai... Bella mira c'ha questo! Eh sì! Ma non fa paura! Non fa paura! Sì! Oltre a fare i viscidi che si fa qua eh! Te ripio! Te ripio! È destino! È scritto nel tuo destino Bottas! Te devi levar di mezzo! Mamma mia! Oh no! Non ce posso credere! Carissimi tifosi! Mi spiace essere stato assente nell'ultimo episodio della carriera ma sono stato trattenuto nei miei uffici per questioni della massima... C'è la crisi di governo! Crisi di governo! Ah sì! Giusto! 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 La crisi di governo non mi ha permesso di essere fra voi ma oggi il Mila si è appresa ad affrontare numerose sfide importanti! Sì! È uno! Dai! È su! Si può fare! Loda! Lodali! 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 Su! Andiamo! 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 Ancora! Ancora! Alleggerisci! Bravissimo! Mamma mia! Serna ne ha fatto un altro! Fermi tutti! Fermi tutti che si può fare adesso! Adesso ci credo! Doppietta di Serna! Si è diventato un bomber di razza assoluta! Bravissimo! Weekend è comunque! Che intelligenza a sto giocatore! Cassiano sulla laggata al 94esimo! No vabbè ragazzi! Fermi! 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 Poi la laggata che non mi ha fatto capire se stava entrando è stata terribile! Gioco diabolico! Ma che vuole? Mancini li direi che DeFalchi venirebbe l'esonero! Ma non gli si può rispondere! Mancini DeFalchi sta pagando il prezzo del proprio pressapochismo! Non dovremmo neanche avere questa discussione se facesse a modo il suo... Ma cosa vuole mon pure quest'altro? Ma parlano tutti a sto gioco! Pensa al ciuffo! Ecco! Invece DeFalchi sta chiacchierà! Non gli posso rispondere! Pensa al ciuffo! Pensa a Pettinato! Invece DeFalchi sta a pensare ai cavoli miei! Non voglio farmi coinvolgere la discussione di Alberto Paccini! Mi sta concettato solo sulla prestazione della partita! Pensasse al ciuffo! Ecco! Mi piace come risposta! Ecco! Sono uscito tipo Dracula! Dopo la... L'esumazione! Perché siamo bloccati? Si è... Si è bloccata l'animazione sul... Rientra! Allora, per uscire da questo momento di impasse... Non ci rientra! Si è buggata l'animazione! No! Allora... Ehm... Lascia! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Aspetta, eh! No! Eh, non si fa così, sviluppatori! Quanto rito! Sono arrivato! Jason! Io ho bisogno di... Non so come controllarlo perché... C'ha tutti i controlli sballati, chiaramente, perché la visuale è quella... Posso rientrare? Niente... Niente... Non... Non... Jason! Dai, non c'è un modo per sbaggare sta cosa! Possete che sto gioco... Mi fa sempre sbellicare! Perché? Sì... Oddio! Oddio! Eccolo! Io ho bisogno di rientrare qui dentro! Qualcuno mi dia una pizza, così forse si sbagga! Niente... Vado! Di là! Il negozio è di là! Niente... Qual è il tasto pentato in tal armadio? Oddio! Però di tutti, non lo so! Sempre molto utile, dei complimenti! Allora... Schiaccioli! Tenendo premuto A, non succede niente! Tenendo premuto X, non succede niente! Tenendo premuto B, non succede niente! Tenendo premuto Y, chiacchiero! Con R e B, niente! Niente! Si è buggato, irrimediabilmente! Ma perché? Ma... Eccolo! For... Aiuto! Aiuto! Ciao, faccio! Senta! Oddio! Voglio rientrare... Perché si bugga? Se è colpa tua che bugghi sempre tutto! Oddio! Dove essere un video terrificante? Non lo è! Sembra... Sembro tonon! Io non so come e che cosa fare! Aiuto! Non ho un incontro premio! Non so cosa fa! Aiuto! Aiuto! Qualcuno capirà che sono buggato! Signori! Stop! Signori! Qui! C'è uno buggato! Perché si è accesa la One? Que! Un appare! Grazie a tutti.